ci rimane da guardare insieme l'ultimo esercizio direi che è quello del lab 12 forse è quello che conoscete meglio perché l'abbiamo già fatto in laboratorio quindi è il primo che avete fatto che era quello sui contatti adesso abbiamo 20 minuti quindi non è detto che riuscirò a terminarlo al limite lo accendiamo poi lo termino offline e c'è un file che indica delle persone, nomi di persone, numeri di telefono e presenza all'interno di un albergo, giorno di arrivo e giorno di partenza dove i giorni sono indicati semplicemente con un valore numerico un file che contiene dei sospetti e cosa deve fare il programma? il programma deve prendere per ogni sospetto quali sono le persone con cui il tale sospetto ha avuto contatti come faccio a determinare questi contatti? prendo questa signora, Anna Neri vado a vedere in quali giorni è stata nell'albergo quindi dal 95 al 100 e vado a vedere quali altri ospiti erano presenti in questi giorni quindi ad esempio Mario Rossi è arrivato al giorno 100 che è lo stesso giorno in cui Anna Neri è uscita e quindi è possibile che si siano incontrati Paolo Verdi invece dal 115 al 112 sicuramente non ha incontrato Anna Neri perché è arrivato 5 giorni dopo che lei è andata via quindi questo è il tipo di controllo che dobbiamo fare allora anche qua leggiamo il file delle presenze e poi il file dei sospetti possiamo anche non memorizzarlo semplicemente leggiamo una riga per volta e la possiamo elaborare quindi proviamo un po' a dare una soluzione a questo esercizio leggi gli ospiti dell'albergo e questi ospiti qua li posso memorizzare come lista di dizionari la cosa più semplice la lista di record quindi ospiti uguale a una lista vuota with open nome file R encoding sf o riga in f i campi sono riga punto R strip barra n punto splitta sulla virgola prevenza prevenza è qua splitta sulla virgola senza nessuna stranezza splitta virgola e quindi potrò aggiungere agli ospiti un nuovo record in cui ho il nome che è campi di zero ho il telefono che è campi di uno giusto si e poi in e out ingresso e uscita che è int di campi di due e l'uscita è int di campi di tre ospiti ospiti leggi presenze punto txt no stavo facendo un attimo stavo eseguendo quello di prima si devo chiamarlo il main se no non fa nulla ok quindi questi sono i dati una lista di dizionari semplice semplice adesso andiamo a leggere l'altro file con i sospetti e per ciascun sospetto che si legge in un'istruzione sola perché semplicemente è una serie di nomi separati da capo quindi un read lines mi legge l'intero file in un colpo solo quindi addirittura potrei se non dobbiamo fare controllo degli errori degli arrivari potrei dire che i sospetti uguale vabbè facciamolo qua f uguale open sospetti in lettura encoding sospetti qual è f.readlines f.close no readlines già legge una lista di stringhe e ogni stringa corrisponde a una riga l'unica l'unico problema è che queste righe lette dal read lines contengono ancora il barra n che quindi sarebbe opportuno ripulire quindi i sospetti uguale s.rstrip il barra n por s in sospetti voilà sostituiamo ogni elemento s col suo strip a questo punto per ogni sospetto vado a cercare i contatti quindi for sospetto in sospetti cerca contatti di quel sospetto all'interno degli ospiti lo metto in una funzione così non ho troppa indentazione dentro il mail quindi mi costruisco una funzione cerca contatti ospite no scusate sospetto ospiti in cui faccio quella verifica allora la prima cosa che devo fare è capire il mio sospetto quando è arrivato quando è andato via quindi cerca il sospetto tra gli ospiti for ospite in ospiti se ospite di nome uguale sospetto perché il sospetto è solo una stringa se il nome di quell'ospite è quello allora questo ospite è il mio sospetto ospite sospetto uguale ospite quindi io qua entro con una stringa sospetto e da questo ciclo for esco con un record ospite sospetto che punta che fa riferimento all'elemento della lista che rappresenta me stesso rappresenta il mio sospetto da cui posso calcolare che l'ingresso del sospetto è ospite sospetto di in e l'uscita del sospetto uguale ospite sospetto di out e che ho trovato me stesso quando entro e quando esco adesso devo andare a controllare tutti gli altri se sono entrati i barra usciti in un arco di giorni che si sovrapponga col mio quindi adesso punto adesso controllo tutti gli altri quindi di nuovo for ospite in ospiti adesso me stesso mi devo escludere quindi if ospite diverso da ospite sospetto cioè se non sono io perché se no non ha senso confrontarmi con me stesso possono capitare due cose l'ospite e l'ospite sospetto si sono incontrati oppure no l'unico un caso in cui non si sono incontrati è quando uno dei due è andato via prima che l'altro arrivasse cioè se il mio in il mio out è prima del tuo in non ci siamo incontrati se il tuo in è maggiore del mio out non ci siamo incontrati in tutti gli altri casi ci siamo incontrati direi poi che ci possiamo essere incontrati nel senso che io sono arrivato e sono andato via e tu sei arrivato dopo di me e sei andato via prima di me va bene quindi la tua permanenza è stata un sotto insieme della mia oppure ci siamo io sono arrivato sei arrivato tu vado via io vai via tu e quindi le due permanente ci sono accavallate ma comunque hanno un'intersezione diversa da zero l'unico modo per avere un'intersezione uguale a zero è proprio che il mio max sia minore del tuo min o viceversa quindi se abbiamo detto ospite diciamo così incontrati mettiamo una breve booleana così è più facile si sono incontrati se anzi no non incontrati se abbiamo detto il mio max è minore del tuo min quindi ospite sospetto di out è minore di ospite di in tu sei entrato dopo che io sono uscito oppure io sono uscito dopo che tu sei entrato quindi ospite sospetto di out no di in scusate io sono arrivato dopo che tu sei andato via aspetta io sono uscito tu sei entrato dopo che tu sei uscito ok oppure l'ospite sospetto in è maggiore dell'ospite di out giusto? quindi due condizioni o tu sei arrivato dopo che io sia andato via o tu sei andato via prima che io arrivassi allora a questo punto è la condizione che dice che noi non ci siamo visti il sospetto se invece ci siamo visti o ci siamo potuti vedere quindi se note non incontrati e questa doppia negazione un po' confonde le idee se non non è vero che non ci siamo incontrati allora dovrò stampare che cosa è che devo stampare contatto con F contatto con ospite di nome telefono ospite di telefono qui dovevamo stampare contatti sospetti di sospetto vediamo un po' allora qui dice contatti sospetti di Anna Neri contatto con Mario Rossi Chiara Maria Azzurri Pdor vediamo un po' se è vero sì contatti del cliente Paolo Verdi Rossi Zito Pdor Rossi Tor Zito vabbè l'ordine non importa contatti del cliente guido guido vabbè qui da un'eccezione perché effettivamente questo qua non ha avuto contatti e io cosa sto facendo nel caso in cui non abbia avuto contatti la funzione cerca contatti cosa mi dice la valeria sospetto reference before assignment perché ospite sospetto non è stato trovato proprio perché questo signor guido guidi no c'è vabbè queste qua in realtà non le abbiamo usate quindi le possiamo anche togliere però non era quello il problema ovviamente ospite sospetto ah ok capito non era guido guidi ma era uno nessuno il problema tra i sospetti c'è uno che si chiama uno nessuno che non c'è nelle presenze proprio non è mai stato in quell'hotel lì e quindi giustamente quando io dico cerco me stesso non ci sono e quindi questo ospite sospetto non viene trovato quindi nel caso in cui non venga trovato possiamo dire come faccio a accorgermi l'ospite allora inizializziamolo ha un valore nulla e poi ci chiediamo se ospite sospetto uguale non allora usciamo da questa procedura dicendo che il signore qua sospetto non è mai stato in hotel e ritorniamo dalla funzione perché tanto è inutile andare a fare le ricerche se non l'abbiamo trovato ok quindi contatti sospetti di questo qui non ha nessun contatto questo qui invece non è mai stato nell'hotel quindi anche lui ovviamente non può avere contatti anche qua potremmo dire con tanti sospetti nessuno potremmo metterlo miglioriamo un pochino quindi mettiamoci un flag che ci dice se ne abbiamo trovato almeno uno e poi alla fine se non ho trovato print nessun contatto così è un pochino più leggibile contatti sospetti di di dare vari contatti guido guidi nessun contatto invece nessuno non è mai stato nell'hotel qui in questo caso siamo in seconda struttura dati che era quella dei sospetti era molto semplice e quindi anche la lettura del file non ci ha creato né problemi né particolare tempo speso ok direi che contrariamente alle previsioni siamo ucciti a finire tutti gli esercizi che ci eravamo proposti quindi per oggi siamo le 14.27 possiamo chiudere l'ultima lezione di programmazione ci vedremo ancora appunto tra oggi e domani tre volte online per fare gli esercizi di teoria e poi ci vedremo in un contesto un pochino più ansiogeno che è quello dell'esame ma da lì si deve passare quindi bocca al lupo anche per l'esame ricordatevi di fare questionari o cpd altrimenti divento antipatico buona giornata grazie a tutti grazie a tutti